Ciao a tutti! Dopo avervi parlato delle New Balance Fresh Foam Borukai 1-80, scarpe adatte per la corsa, oggi invece vi parlerò di una scarpa molto simile che ha più o meno le stesse caratteristiche ma che è definita scarpa da relax, cioè la classica scarpa da portare dopo gli allenamenti oppure per il semplice riposo del piede. Guardate, è una scarpa incredibile che costa pochissimo se paragonata alla New Balance ma dà delle sensazioni di comfort e di piacevolezza nel piede che sono incredibili. Sto parlando del modello Flex Soul della Sketchers, ovvero questo qua, quello che ho in mano in questo momento e che uso ormai da diversi mesi come scarpa da riposo. Questa è la classica scarpa che non ha ambizioni tecniche, sportive o di risposta alla spinta al suolo. Questa è una scarpa comoda, probabilmente non bella, va bene, ma molto comoda, anche questa dotata della suola in memory foam, la stessa suola che hanno le New Balance, con un'unica differenza. La New Balance sono scarpe per correre, scarpe studiate, progettate appositamente per la corsa. Questa scarpa invece è progettata solo e soltanto per il riposo del piede. Quindi anche questa è leggera, non leggera quanto la New Balance, ma presenta le stesse caratteristiche. Ovviamente non essendo una scarpa tecnica non avrà tutta quell'attenzione dei particolari che aveva la New Balance, come ad esempio l'assenza di cuciture. Si possono vedere sulla Tumaia diversi tipi di cuciture, ma diciamo che il passo che si ha normalmente è molto diverso dal passo della corsa e quindi anche qui le cuciture ci sono, ma diciamo non si sentono. La suola è una suola che non è leggera e performante come quella delle New Balance, però è comoda. Un pochino più pesa, ma comoda, ma soprattutto il grande comfort di questa scarpa è data dalla suola, il memory foam, e dall'imbottitura della Tumaia interna, incredibilmente morbida ed avvolgente. Ora, io questa scarpa ve la consiglio per due motivi. Prima di tutto perché costa poco, ma questa scarpa viene scelta prevalentemente per il suo comfort. È un comfort incredibile. Questa è la classica scarpa che viene indossata da chiunque corra dopo una lunga sessione di allenamenti o di corsi. Qua dentro il piede, guardate, sta a casa sua. Io questa scarpa l'ho pagata 49 euro e la uso tutti i giorni, anche quando non devo fare sport, perché veramente chi sa cosa vuol dire correre, chi conosce i dolori del piede e tutti i piccoli inconvenienti che si hanno, sa benissimo quanto è importante preservare il piede. Con questa scarpa il vostro piede è al 100% sicuro e confortevole. Quindi, se cercate una scarpa confortevole, economica, con tecnologia memory foam, non posso altro che consigliarvi la FlexSole della Skechers. Ciao a tutti e alla prossima!